Chak Sameach a tutti, quest'anno avremo delle particolità per quanto riguarda la prima e la seconda sera di Pesach, perché quest'anno la Vigilia di Pesach sarà a Mozzai Shabbat, ossia sabato sera al 27 marzo. Dal momento che la prima sera di Pesach sarà sabato sera, tutte le regole, tutte le circostanze che precedono la festa di Pesach vengono anticipate al giorno prima. Per esempio quest'anno il digiuno dei primogeniti sarà giovedì, quindi tutti i primogeniti dovranno digiunare dall'alba fino al termine di un trattato di Talmud chiamato Siom Masechet. Quindi tutte le persone che hanno l'obbligo di digiunare si devono riunire nei templi e assistere alla fine dello studio di un trattato del Talmud. Per quanto riguarda le persone che stanno male oppure hanno avuto affetti dal Covid e si sentono ancora deboli, sono automaticamente esenti da questo digiuno. La cosa fondamentale è partecipare a questo studio del trattato del Talmud, però se al Tempio non ci sono posti, comunque è permesso vedere le dirette fatte dai Rabbanim sui media, la cosa fondamentale è vedere comunque queste dirette in live, perché i nostri Rabbanim dicono che se una persona vede una registrazione dopo qualche ora non è uscito d'obbligo dalla fine del Siom Masechet e quindi deve digiunare fino alla sera. Quindi quest'anno, ripetiamo, il digiuno di primogeniti è anticipato a giovedì, dall'alba fino al termine del Siom Masechet. Per quanto riguarda poi la Betikat Chamez, ossia la ricerca del Chamez, quest'anno va fatta giovedì sera dopo l'uscita delle stelle. Allora, per quanto riguarda Roma, l'uscita delle stelle è alle 18.55, quindi è permesso fare la Betikat Chamez dopo quest'orario, 18.55. Mentre per quanto riguarda Milano, l'uscita delle stelle è alle 19.16, quindi è permesso di ricercare il Chamez dopo quest'orario, 19.16. E dopo questi orari, ripetiamo, Roma 18.55, Milano 19.16, le persone hanno l'obbligo di ricercare il Chamez dentro le case a lume di candela e prima di ricercare il Chamez bisogna recitare la Betikat Chamez, che è la seguente. E poi si comincia a ricercare il Chamez, cioè l'uso di disporre 10 pezzetti di pane nella casa per cercare il Chamez, per poi non recitare una Betikat Levattala, ossia una benedizione in vano. Una volta finita la ricerca del Chamez, si dice la seguente formula in aramaico, che è Ossia, questa è una formula che la traduzione è la seguente, ossia qualsiasi cibo lievitato si trovi ancora nel mio possesso, che io non abbia vettuto o sgomberato, sia annullato e considerato come polvere della terra. I Chamez nella Laka dicono che questa formula va recitata almeno tre volte e anche sarebbe meglio leggerla sia in aramaico che con la traduzione nella lingua che noi comprendiamo affinché capiamo al 100% l'utilità, cioè il significato di questa formula per annullare il Chamez. Quindi questa Betikat Chamez va fatta giovedì e sera dopo l'uscita delle stelle. Adesso la mattina seguente, ossia venerdì mattina, dobbiamo bruciare il Chamez, però dal momento che quest'anno abbiamo detto che Pesach capita, la prima sera di Pesach capita a Muzze Shabbat, comunque noi venerdì mattina bruciamo il Chamez, però poi per il pasto di venerdì sera e sabato mattina comunque dobbiamo continuare a mangiare il Chamez. Quindi per ora venerdì mattina facciamo la bruciatura del Chamez e poi sabato mattina faremo l'annullamento. Adesso il venerdì mattina il Chamez per quanto riguarda Roma si può bruciare entro le 11 e 13. Adesso una volta che abbiamo bruciato il Chamez, comunque poi ci dobbiamo preparare per lo Shabbat. Allora venerdì sera sarebbe meglio comunque dal momento che abbiamo l'obbligo di mangiare comunque ancora pane perché è ancora Shabbat e quindi non siamo ancora entrati nella festività di Pesach, quindi venerdì sera comunque abbiamo l'obbligo di mangiare il pane, però bisogna stare attenti a non mischiare cibi levitati Chamez con gli utensili e le cose di Pesach perché comunque i Chamez hanno stabilito che venerdì sera comunque dobbiamo mangiare già con cibi e utensili già pronti per le Pesach. Quindi i Chamez dicono che per quanto riguarda venerdì sera sarebbe meglio comprare dei panini tipo dei bottoncini molto molto piccoli oppure delle pite che è pane che non fanno tante briciole e fare Kiddush a mozzi, Nidratia Daim a mozzi, mangiare questi panini piccoli e poi continuare con la Seuda e bisogna stare attenti a non fare briciole. Quindi alcuni Chamez hanno anche consigliato di fare il Kiddush a tavola, Nidratia Daim e poi mangiare il pane in un'altra stanza, per esempio in cucina oppure sul balcone e poi tornare nella sala dove si mangerà mangiando senza pane e bisogna stare attenti a non fare briciole. Questo per quanto riguarda il venerdì sera. Per quanto riguarda il sabato mattino bisogna mangiare Chamez entro la quarta ora. Quindi c'è il minaca quest'anno di alzarsi molto presto e iniziare la tefillah molto presto perché il Chamez si può mangiare entro per quanto riguarda Roma entro le 9 e 46 e per quanto riguarda Milano entro le 9 e 58 quindi ci si alza presto si fa tefillah e entro questi due orari per quanto riguarda Roma e Milano abbiamo già detto gli orari bisogna bisogna fare la seudah sempre mangiando il pane e una volta e entro questi due orari entro le 9 e 46 a Roma e entro le 9 e 58 bisogna mangiare Chamez passato questo tempo le persone devono fare l'annullamento del Chamez che non abbiamo fatto il giorno prima perché noi abbiamo detto che venerdì mattina noi bruciamo il Chamez ma non possiamo fare l'annullamento. Adesso dal momento che Shabbat sarà il 14 di Nisan quindi la vigilia di Pesach noi sabato mattina prima del prima di questi orari prima delle 9 e 46 a Roma e prima delle 9 e 58 a Milano mangiamo Chamez e poi dopo facciamo l'annullamento dicendo la formula in aramaico col Chamez e il Chamez ossia qualsiasi cibo lievitato si trovi ancora a mio possesso l'abbia io veduto o non veduto sgomberato o non sgomberato venga annullato e considerato come polvere a terra quindi anche questo sarebbe meglio leggere almeno tre volte per capire il significato di questa frase e una volta annullato il Chamez non si può il Chamez non si può più mangiare poi per quanto riguarda il Mozzè Shabbat la sera dal momento che esce Shabbat e entra Yom Tov la tavola per il chiedere va apparecchiata va preparata dopo l'uscita delle stelle e poi per quanto riguarda poi per fare l'avdala all'uscita di Shabbat sarebbe meglio accendere una candela prima che entra Shabbat per poi usare quella candela già accesa per fare l'avdala e poi accendere le candele di Yom Tov per quanto riguarda poi il Chiddush della prima sera di di Pesach dal momento che è Yom Tov quindi anche Mozzè Shabbat come troviamo scritto in tutte le Haggadot bisogna iniziare da El Muade facendo poi la Berakha di Boreh Priaghafen poi si continua con il Chiddush poi una volta finito il Chiddush si fa la Berakha di Boreh Mevrei Ayesh poi si fa la Berakha di Amavdir Ben Kodesh Lechul e poi dopo si fa la Berakha di Shecheyano con tutto con questo piccolo riassunto vi auguro Pesach Cacheve Sameach a tutti Grazie! Grazie!